In queste slide affronteremo per ultimo il costo di produzione dell'uva ottenuta da un vigneto allevato a pergola alta, sempre in Valle d'Aosta. La pergola alta rappresenta una forma di allevamento tradizionale per la valle che caratterizza fortemente il paesaggio, soprattutto laddove la pergola è alta. La pergola alta è presente in modo particolare nella bassa valle, ai confini con il Piemonte e con la limitrofa zona di Carema. Esiste anche un'altra forma di allevamento, la pergola bassa, che però è più diffusa nella parte alta della Valle d'Aosta. Nel nostro lavoro ci siamo concentrati sulla pergola alta, che è veramente molto caratterizzante il paesaggio locale e rappresenta una forma di allevamento molto tradizionale, come molti testi nel 1800, molti testi storici, evidenziano. Nella pergola alta è tipica la presenza di muretti, di muretti a secco che sostengono i versanti particolarmente ripidi. La costruzione dei muretti ha rappresentato nei secoli l'unica possibilità per ricavare dei terrazzamenti su cui effettuare le coltivazioni, quindi su cui ottenere delle produzioni agricole. Questi muretti sono ancora presenti oggi grazie a una grande manutenzione da parte degli agricoltori e costituiscono quindi proprio la base di sostegno dei terrazzamenti che ospitano i vigneti. Per tutte queste ragioni, molto bello dal punto di vista scenografico, ma è estremamente difficile la meccanizzazione, perché per riuscire a entrare su questi terrazzamenti, che sono anche tra l'altro abbastanza stretti e limitati nelle dimensioni, è necessario percorrere delle scalette o comunque delle rampe d'accesso molto strette e molto ripide che rendono praticamente impossibile la meccanizzazione. Per questa ragione i mezzi meccanici maggiormente diffusi tra i viticoltori sono rappresentati dal porter che serve a trasportare le attrezzature necessarie, il decespugliatore, pompa e lancia e vari atomizzatori a spalla per eseguire i trattamenti e infine la forbice pneumatica per effettuare le potature. Per questa ragione, per la difficoltà di meccanizzazione, il carico di lavoro è estremamente elevato. Da noi è stato quantificato in base alle interviste effettuate intorno anche al di sopra delle 160 ore riferite a mille metri quadri di vigneto. Ecco, questo riferimento a mille metri quadri di vigneto è stato necessario perché effettivamente le dimensioni dei terrazzamenti sono tali per cui molto spesso i vigneti sono decisamente frammentati e quindi non non aveva senso impostare il calcolo come è stato fatto per i guio sul lettero di vigneto. Pertanto abbiamo preso come centro di costo questi mille metri quadri che sono stati la base per determinare tutti i costi legati al processo produttivo. L'incidenza sul costo di produzione dell'uva con questo tipo di allevamento è estremamente più elevato proprio per la scarsa presenza delle macchine e si aggira per quanto riguarda il carico di lavoro tendenzialmente copre oltre la metà del costo di produzione dell'uva. Anche in questo caso le operazioni manuali richieste sono le solite. Io questa volta ho evidenziato in rosso le operazioni che maggiormente distinguono la pergola alta dalla classica spalliera a guio e quindi oltre alla potatura vedete che in particolar modo nella zona della bassa valle le legature si fanno ancora con salice il che presuppone che tra le operazioni manuali rientri anche la pulizia e la preparazione dei salici. I sarmenti non vengono trinciati ma vengono raccolti e poi o abbruciati sul luogo ma questa è una pratica che teoricamente non potrebbe neanche essere realizzata oppure devono essere portati via. La bruciatura semplifica un po' le operazioni rispetto al riporto, fa risparmiare un pochino di tempo. A volte è necessario bagnare soprattutto subito dopo la fase dell'impianto ma direi che più che altrove è necessaria la raccolta dell'acqua piovana che viene poi utilizzata anche per preparare le miscele da distribuire per i trattamenti. I trattamenti richiedono due operatori, uno dei quali deve rimanere a livello strada per poter permettere di effettuare, di mettere in pressione determinate attrezzature. Alle varie pulizie col decespugliatore per eliminare l'erba che ricopre il vigneto e le pulizie dell'interceppo si aggiunge anche la pulizia e la manutenzione dei muretti a secco che molto spesso deve essere effettuata anche manualmente. Dopodiché le altre operazioni sostanzialmente sono le stesse che abbiamo già visto per i guiò. Si aggiunge oltre la manutenzione ordinaria dell'impianto di vigneto, quindi con la sostituzione eventuale di barbatelle che sono morte o fallanze e cose del genere, si aggiunge anche una manutenzione straordinaria del vigneto che a differenza del termine straordinaria viene effettuata annualmente a rotazione sulle varie aree interessate dai vigneti perché questa manutenzione straordinaria ha l'importante funzione di perpetuare la durata dell'impianto. L'impianto ex novo a pergola alta è un impianto estremamente costoso a causa dell'elevato assorbimento di paleria e legname che normalmente è in castagno, il legno di castagno è costoso, la paleria deve essere preparata in qualche modo e tutto questo materiale assume oggi dei costi molto elevati che sconsigliano i viticoltori dal sostituire e ripristinare questo tipo di impianto. Questo è il motivo fondamentale per cui la pergola in bassa valle si va perdendo proprio per questi grandi costi di impianto. Quindi si preferisce cercare di manutenere il più a lungo possibile gli impianti già preesistenti effettuando a rotazione annualmente questa manutenzione straordinaria. Naturalmente tutto questo carico di lavoro insieme alle piccolissime dimensioni dei terrazzamenti sono la causa del principale di questo elevato carico di lavoro. Ai fini della determinazione del costo del processo di vigneto anche in questo caso il processo è stato ipotizzato gestito in economia ed è proprio così perché i vigneti sono per lo più gestiti da piccolissime imprese quindi con imprenditori che spesso sono anche part time perché hanno delle superfici a disposizione estremamente esigue che continuano a manutenere a tenere in produzione anche per affezione perché per qualche ragione a livello familiare si sono ritrovati ad avere questa disponibilità di terre. L'impostazione del costo del processo del vigneto è assolutamente analoga a quanto abbiamo visto per l'impianto a Guyot si tratta di un bilancio parziale dove tutte le voci di costo relative ai fattori a logorio totale, a logorio parziale, il prelievo fiscale e tutte le remunerazioni spettanti all'imprenditore per il capitale fondiario, il capitale scorta, il capitale di anticipazione e il lavoro apportato al processo devono in qualche modo essere quantificate. Il centro di costo per quanto abbiamo detto prima è riferito ai mille metri quadri di vigneto e in questo caso il costo è stato valutato assolutamente con l'IVA incluso perché come ripeto le aziende interessate sono prevalentemente molto piccole, part time e anche in larga parte in regime di esonero. Sul costo unitario di produzione dell'uva non c'è nulla da dire, la resa produttiva è naturalmente stata da noi valutata in termini medi perché l'obiettivo era calcolare un costo di produzione in termini medi quindi valutando l'alternanza delle rese annuali durante tutta la durata dell'impianto, la durata dell'impianto in linea teorica potrebbe essere ragionata in termini di almeno 40 anni e abbiamo utilizzato una media produttiva di 75 quintali per ettere cioè 7,5 quintali su mille metri quadri. Tuttavia come ho già accennato in precedenza se il viticoltore volesse calcolarsi il costo di produzione riferito all'annata nulla vieta di riferirsi di anno in anno alla resa effettivamente ottenuta nell'annata. La quantificazione delle diverse voci di costo non si differenzia assolutamente rispetto al caso del Goyot, le spese varie di processo sono riferite alle quantità di fattori produttivi all'ogorio totale impegnati su quella superficie per il loro prezzo ivato, le quote relative al vigneto vengono imputate direttamente. Per quanto riguarda la quota di reintegrazione in questo caso trattandosi di impianti che sono molto vecchi e che sono stati considerati per questa ragione completamente ammortizzati la quota di reintegrazione non è stata inserita e valutata nel conteggio anche perché è estremamente raro la situazione in cui impianti vecchi vengono sostituiti con impianti di nuova realizzazione per gli elevatissimi costi molto maggiori rispetto all'impianto a Goyot e anche per questa ragione tra i vari costi è stata inserita la manutenzione straordinaria che però viene annualmente eseguita a rotazione sulle diverse superfici a disposizione dell'imprenditore per riuscire a prolungarne e perpetuare la durata dell'impianto stesso. La quota di manutenzione ordinaria è stata valutata allo stesso modo, la quota di manutenzione straordinaria è stata valutata in termini di costo annuo sopportato comprensivo di paleria e legname necessario che è stato valutato nelle spese varie, mentre il lavoro aggiuntivo richiesto dalla manutenzione straordinaria è stato quantificato alla voce beneficio di lavoro. La quota di assicurazione non è stata conteggiata perché non rientra nella casistica della pergola alta. Le quote invece relative alle macchine e al fabbricato adibito al loro ricovero sono state imputate indirettamente come abbiamo già visto attraverso il costo orario delle macchine. Il prelievo fiscale come voce IMA e saldo IVA non è stato contabilizzato perché non caratterizza la situazione valdostana e neanche quella del regime IVA tipico delle aziende interessate dalla pergola, mentre le remunerazioni per i fattori apportati dall'imprenditore sono stati valutati allo stesso modo. Interessi all'1% sul capitale immobilizzato nel vigneto, il beneficio scorte già conteggiato attraverso il costo orario delle macchine, il beneficio di anticipazione è stato valutato come interessi al 4% sul capitale di anticipazione del processo valutato allo stesso modo del Guyot, mentre il beneficio di lavoro è stato quantificato valutando l'assorbimento delle ore di lavoro umano del vigneto moltiplicandole per questa valutazione di 10 euro ora comprensivi di contributi orari. L'impostazione del conteggio del costo di processo è stata eseguita allo stesso modo in assonanza con quella del Guyot, si è cercato di focalizzare l'attenzione sull'assorbimento del lavoro manuale interno familiare e il lavoro meccanico richiesto dalle diverse fasi, andando a considerare a scorporare in modo analitico ogni singola fase che interessa l'allevamento della pergola. Come è possibile vedere, oltre al diverso carico di lavoro, la pergola si differenzia dal Guyot anche per la diversa richiesta di trattamenti chimici antiparassitari legati a una maggiore vulnerabilità degli impianti che richiedono quindi più trattamenti anche in merito a eventuali attacchi di drosofila. Questa maggiore esigenza di protezione dagli attacchi è particolarmente evidente anche nella determinazione delle spese varie che includono maggiori fattori produttivi rispetto all'allevamento Guyot, come è possibile individuare attraverso i trattamenti effettuati, anche la difesa rispetto alla tignola. Per il resto gli altri fattori produttivi a logorio totale, la quantificazione non è differente, in particolar modo l'assorbimento dei carburanti che sono rappresentati in questo caso esclusivamente dalla benzina. E poi infine quest'ultima voce inclusa nelle spese varie che rappresenta il costo in termini di legname e paleria richiesta per la manutenzione straordinaria della pergola. In questo caso oltre alla determinazione delle ore di lavoro richieste alle diverse macchine per lo svolgimento delle varie operazioni culturali, sono stati applicati dei costi dei costi orari per le macchine determinati ipotizzando, a partire dai costi annui fissi delle macchine, ipotizzando un impiego medio relativo a una superficie a vigneto di media dimensione, quindi intorno ai 5000 metri quadri. Perché noi abbiamo calcolato in questo modo i costi orari delle macchine perché in media la dimensione in valle d'aosta dei vigneti disponibili nelle aziende si aggira intorno ai 6200 metri quadri, quindi ci è sembrato corretto valutare il costo orario delle macchine utilizzate ipotizzando una superficie disponibile a vigneto per ciascuna azienda mediamente di 5000 metri quadri e quindi questi costi orari sono stati così determinati. La quota di reintegrazione del vigneto ipotizzata su una durata di 40 anni non è stata inserita per quanto ho detto prima, mentre la manutenzione ordinaria del vigneto è stata valutata pari allo 0,6% sul valore nuovo. Infine il conteggio sul costo di processo si conclude con la valutazione dei benefici da attribuire ai fattori apportati dall'imprenditore, come abbiamo visto le imposte, il prevo fiscale è praticamente nullo, non considerato, mentre il beneficio di lavoro viene applicato sulle ore che si aggirano intorno a 162 per mille metri quadri a 10 euro l'ora, il beneficio fondiario del vigneto viene sempre calcolato all'1% sul valore di mille metri quadri di vigneto, gli interessi sul capitale mediamente anticipato vengono valutati al 4% secondo la procedura della frazione del capitale circolante applicato alla determinazione del capitale di anticipazione per un totale di circa di poco più di 3.000 euro per mille metri quadri di vigneto che rapportati alla resa media ipotizzata intorno a 7,5 quintali porta il costo unitario di produzione a un livello superiore rispetto a a quanto determinato nel guillot e cioè intorno a 4 euro al chilogrammo. Per quanto già detto il risultato così ottenuto ovviamente va in qualche modo interpretato perché risente naturalmente delle valorizzazioni, delle valutazioni che sono state fatte per gli apporti dell'imprenditore, in primis il lavoro, dipende ovviamente dal valore di resa prescelta e anche ma in misura minore direi rispetto al guillot dalle condizioni strutturali aziendali. In questo caso per la pergola la meccanizzazione è molto limitata e quindi sostanzialmente il grosso del costo di produzione si annida essenzialmente nella richiesta del lavoro, nella necessità di apportare molto lavoro al vigneto. Il confronto del costo di produzione è ovviamente sempre con il prezzo riconosciuto dal mercato o dalla cantina sociale e naturalmente la situazione diciamo che probabilmente si tende a verificarsi con una certa frequenza nella bassa valle è quello di avere un costo di produzione tendenzialmente almeno così valutato come lo abbiamo valutato noi maggiore rispetto al prezzo riconosciuto dal mercato o dalla cantina sociale e questo significa che ahimè il lavoro familiare apportato al vigneto non riesce a essere remunerato secondo le ipotesi fatte. Questo vuol dire che tanto più il prezzo di vendita si allontana rispetto al costo di produzione e tanto più la remunerazione del lavoro familiare si allontana dalle ipotesi fatte nel conteggio.